Musica Rimangono i bambini la categoria più bersagliata dall'influenza nella fascia di età tra 0 e 4 anni. L'incidenza nell'ultima settimana è stata di quasi 27 casi per 1.000 assistiti e di 20,25 casi tra i 5 e i 14 anni. A riferirlo è il bollettino dell'Istituto Superiore della Sanità, secondo cui l'epidemia di influenza ha raggiunto il suo picco nella settimana tra il 19 e il 25 gennaio. Ed ora ha iniziato la sua fase calante. Il livello di incidenza in quest'ultima settimana tra il 26 gennaio e il 1 febbraio è stato di 10,35 casi per 1.000 assistiti, dopo aver raggiunto in quella precedente il picco di 10,67 per 1.000 assistiti. Il numero di casi stimati in questa settimana è stato di circa 629.000 ammalati e gli italiani finiti a letto per l'influenza. Dall'inizio della stagione influenzale sono stati più di 3 milioni. Se i bambini sono i più colpiti, più bassi sono i valori registrati nelle fasce più adulte. 8 casi,89 ogni 1.000 assistiti tra i 15 e i 64 anni, 3,79 tra gli anziani con più di 65 anni. In molte regioni il livello di incidenza è molto alto, ma le più colpite dall'influenza risultano essere le Marche, la Campania, l'Emilia-Romagna, la provincia autonoma di Trento ed il Piemonte. Uno studio della Michigan State University ha scoperto che più gli utenti di Facebook vengono coinvolti in pagine o post correlati all'alcol, condividendo o anche semplicemente commentando, più è probabile che considerino di bere alcolici. Per arrivare a questi risultati, i ricercatori hanno coinvolto nello studio 400 persone. Gli studiosi hanno indagato sui sentimenti dei soggetti in seguito all'esposizione ad annunci su Facebook correlati all'alcol. Quello che si è scoperto, dicono gli esperti del Michigan University, è che se la gente in realtà si sente molto impegnata con il messaggio e vuole fare qualcosa, come condividere o commentare, ci sono più probabilità che pensino molto al bere. Questo, secondo gli studiosi, potrebbe avere implicazioni gravi, soprattutto considerando l'esposizione dei giovani e dei giovanissimi a questi messaggi. I bevitori minorenni vedono questi annunci, interagiscono con essi ed iniziano a pensarci. Anche se per legge i social media non possono inserire contenuti connessi all'alcol rivolti ai minori, per i ricercatori non si può controllare certamente ciò che avviene in essi e su di essi.